Non si arresta il cordone di solidarietà da Arezzo verso l'Ucraina. Mille capi, 183 chili, 15 scatole, sono infatti numeri dell'operazione a favore dei piccoli ucraini portata avanti dal gruppo Mona Lisa, socio della Fondazione Arezzo Comunità, la sua Ollus, la Caritas della Diocesi Arezzo Cortona Sansepolcro, assieme alla stessa Fondazione Arezzo Comunità. Un ringraziamento a Piero Iacomoni, a Mona Lisa per questa azione di grande generosità che dimostra come il privato che produce, poi produce anche azioni di grande cuore e di grande importanza in questo momento. Quindi questa operazione di Fondazione Mona Lisa che aderisce anche alla Fondazione Arezzo Comunità dimostra il grande cuore degli aretini e dimostra che la produzione produce generosità e produce bene. Si parla di bambini e bambine, si parla di il punto più delicato in questa tragedia e quindi il fatto che una grande azienda che ha generato una fondazione, che si allea con altre fondazioni e che sta in filiera con tutta la città dimostri quanto Arezzo sia intelligente, pronta e generosa nei momenti come questi di grande criticità internazionale. Sono capi Mona Lisa che l'SPA ha donato alla Fondazione e noi ci organizziamo con Arezzo Fondazione, con la Caritas per far arrivare tutta questa merce in Ucraina. Tutto qui.